Lui ha una frase da dirvi, vai fai pure il tuo metodo d'approccio Un bacino a stampo qua veloce E li passa più tardi Oh, ci siamo le polle Perché non sono perso nei tuoi occhi quello di Smeraldo Assaggiate figa bianchese, già lo sai Quanto valuti il tuo Riz da 1 a 10? 8 e mezzo 8 e mezzo? Sei sicuro? Possiamo metterlo alla prova adesso? Vai proviamo Cameraman, seguimi e cerchiamo una bucchiac Dimmi te chi vedi Hai visto qualcuno? Una domanda Allora Aspetta, ripeti, ripeti Ce l'avete o no? Perché mi sono perso nel loro cuore Soprattutto nel Mi è piaciuto questo Riz Che voto data ha il suo Riz? Da 1 a 10 0? E cioè, quindi nella tua vita Lidaresti mai il tuo Instagram? Non ti piace proprio? Che è nata in fronte Ah, è una fidanzata Ci sta Salvo Ancora salvo Ci sta Sì, sì È una fidanzata, ci sta Ci sta Ci può stare Ci può stare Ah, può passare la prossima? Blocca e passa la prossima Blocca? Vabbè, oh Io l'ascolto, eh Andri, ascolto Ci sono state delle ragazze lì in fondo Allora Cameraman, dobbiamo camminare oggi Andiamo pure, andiamo pure Allora intanto nei commenti, ragazzi Dovete consigliarci dei Riz Nuovi da fare Oh, ci siamo le palle Grande, brava, fenomeno Oh, ci siamo le palle Dopo querelliamo Il mio avvocato sarà pronto Cocaina nella cookie Da noi sempre mezzogiorno Una bustola per caso Una bustola? Una bustola? No, sto perso nel tuo cuore Che voto dai, questo Riz da 1 a 10? Oh, 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 oh Ah, qua, beh Ma, allora Usciresti mai con lui Nella tua vita? No Tu quanto vi hai detto Che ti eri dato? Otto e mezzo, otto e mezzo Bene Va bene, allora Stavo bene È il messaggio finale da dire Assaggiate Ti dia bianchese, già lo sai Bianchese? È pure razzista il ragazzo Chiamo Fratello, come ti chiami? Leo Quanto valuti il tuo Riz da 1 a 10? Sei e mezzo Sei e mezzo A parte Allora adesso lo vai testare Vieni da qualche ragazza Vediamo come va Vediamo Dai, una ragazza Cerchiamo Cerchiamo Ho già fruttato una Bro Punta con le ragazze Allora Allora Mi metto in mezzo a voi due ragazzi Un secondo Allora Nicoletta Allora lui Vuole dirti una Ma lo conosco Tu devi dare un voto a 1 a 10 Ha il suo metodo di approccio con te Vai Per caso sei un fiore No Allora voto All'approccio 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 E A lui Cioè nella tua vita Ci usciresti mai assieme? Sì Va bene Hai un messaggio per lui? Un consiglio? Qualcosa che vuoi dirgli? E ripasso più tardi Va bene Oh va bene Grazie mille Stay Focus Magic Stay Focus Magic Un saluto a Sean Un saluto a Sean Oh hai preso 8 Andata bene Ragazzi Se non vi fa assaggiare Bloccate Importantissimo Assaggiare a volontà Cioè tu fai il buffet Free level Free level Come fai a rifiutare il mio c'è ragazzi non stanno male i boys qua stanno cucinando Qualcun altro vuole farlo allora come ti chiami Youssef conosciuto anche come faraone Ah ok faraone faraone Tutto l'unico faraone tutte le gestioni faraone Oh cazzo mi trovo Fraggio giuro ci scopo dopo questo video che ma Va bene va bene dopo vediamo Fratello quanto valuti il tuo reed da 1 a 10 8 e mezzo 8 e mezzo Allora adesso vuoi andare da una ragazza e testiamo il tuo reed Da un ragazzo o da una ragazza? Una ragazza in alta buon moque Di socio La vedo dura vediamo se riuscirà a fare qualcosa Il faraone sta assaggiando la sua preda Lui ha una frase da dirvi Vai fai buono Metodo d'approccio Hai per caso una mappa? Una mappa? Cioè? Perché mi sono perso nei tuoi occhi colori seminali Bello questo Bello bello Che voto dai al suo metodo d'approccio da 1 a 10 Sono fidanzate però un voto solo all'approccio al mio metodo Per l'impegno? 6 ma proprio per l'impegno Ci sta Ci sta Sufficienza Non l'ho mai presa a scuola Sì Messaggio Per le tipe Datela finché siete giovani Perché quando sarete vecchi nessuno lavora Ah Granny non vanno di modi Non ci sta No no Niente mi ilfo Granny Adesso si è trasformato In lei che dobbiamo trovarli marito Giusto? Marito Marito Come ti chiami? Mi chiamo Nicole Io e Carmen Allora Quanto valuti il tuo riz da 1 a 10? 10 a 10? Eh non lo so Trovatemi il tico No 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 Egiziani no Ah egiziani no Lui non è egiziani Lui va bene Marocchino Dai vedi qua Digni una frase Il tuo metodo approccio È una frase ironica Perché quando il mio ex vedrà questa frase Riderà Quando mi innamoro della luna Svento di guardare le altre stelle Eh ma la luna è un satellite Non è una stella Non la so l'astronomia Vabbè Vabbè Quanto valuti il suo metodo d'approccio 7 7 Vabbè Lo abusi What? Lui che dovrebbe approcciare a me Lui il maschio Ah allora adesso tocca a te Vai a te Io sincero Io non parlo Dico se l'ho fatto Mi piacciono Perché ho conosciuto tanta gente Che parla tanto Magari in chat parlo troppo Poi E allora Ma se adesso Ma se adesso così Diritti al punto Vi chiedo un bacino qua davanti a me Baccino veloce Dai bacino veloce Che è questo shooter che è arrivato? Baccino veloce Va bene Che va bene Lei va bene Se lei dice così vuol dire che lei va bene No Niko Non può dirlo Lei è la ragazza giustamente One eternity later Un bacino stampo qua veloce Vai Marito Marito Magari No 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 Spera spera Perché sono musulmano No capito Quindi Dopo il matrimonio Però se lei vuole Fino al matrimonio Voleva bene Mi metto il velo Dichiarazione d'amore Ho messo il velo Ho messo il velo Ma ne vuoi solo una di moglie Sarà meglio taglio la gola tutte Le donne senza la make up Schifo Ha detto che le nonne senza make up Fanno schifo tutte Nonne Nonno 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 2024 si mettono sempre le cose Al primo appuntamento Cos'è che ti prepara La Ah è pronta È pronta È il calciatore più grande del mondo Solo se non si fosse rotto il crociato C'è questa cosa Beh provare la sua carbonara è buona Buonissima Di fidare Sì Porca te la fa vedere Fa vedere Che grande Riracciamolo Riracciamolo uguale Aspetta Segui su Instagram Posso seguire i ragazzi Perché? Non voleva gli ragazzi Ragazzi Ci sta Ritorneremo insieme Ah beh sì Ci sta comunque Non seguire uomini Perché se ci sta Non ti sembra un po' strano? Sì Ma è la cosa giusta È la cosa giusta Tanto le cose le mettono a priori Non è un po' tossica come cosa Non c'è niente di sbagliato Tutto tossico raga Viva le relazioni tossiche Questo è questo Sono tornato a mettere il tocco Perché mi piace Che ho voi Senza Metti le mutande Perché tu metti le mutande? Perché vanno messi Perché li ciclo Pensa che è stronzo Ma è un caso umano È il 2025 Praticamente Basta Basta Carbonare Fate dei ragazzi Basta Crociati Rotti Che non siete tutti i calciatori Ecco Basta È il saluto finale Ciao 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 Mi piacciono le armi Ti piace la mia Stata brava Ciao Riccio